ciao manutentori e bentornati nel mio garage indovinate che cosa proviamo oggi un multimetro eh sì la mia grande passione lo vedete già qui nell'angolino dell'inquadratura questa volta non vi faccio un vero e proprio unboxing anche perché è un bel po che lo sto utilizzando perché un multimetro è comunque un apparecchio secondo me è delicato e quindi ha bisogno di qualche prova un po più diciamo prolungata di quella che si può fare nell'arco di quei pochi minuti di video quindi ho iniziato a provarlo da un po funziona bene parliamo di un multimetro della kaiwitz penso si pronunci così spero molto molto interessante con una serie di belle funzioni è anche una buona precisione di funzionamento andiamo a vedere ma prima sigla bene eccolo qui la scatola ricorda da vicino quella di un altro multimetro che avevo provato un po di tempo fa però se vado a vedere poi chi produce tra l'altro non posso neanche verificare chi produce questo kaiwitz perché non c'è scritto mentre in quello che ho provato tempo fa c'era proprio il produttore va bene poco male andiamo a vedere comunque come si presenta e che cosa fa dentro la scatola troviamo attualmente il nulla soltanto questi due tappi che sono quelli che vengono messi qui per protezione dei dei puntali eccolo qui che una volta che si toglie la prima volta penso che vadano nella maggior parte dei casi smarriti un libretto di istruzioni abbastanza ben fatto direi con un italiano piuttosto ben scritto il nostro multimetro purtroppo senza alcuna custodia avrei gradito sicuramente una custodia che per i multimetri è una cosa molto importante purtroppo non c'è troviamo appunto il nostro multimetro due puntali di buona qualità che garantiscono una protezione di categoria 4 su 600 volt e di categoria 3 su mille volte categoria 3 su mille volte categorie 4 su 600 volt un'ottima protezione togliendo la protezione il cappuccetto passiamo una categoria 2 su mille volte chiaramente noi toglieremo questi per fare lavori dove magari non è richiesta una tensione elevatissima fatto sta che è così praticamente per tutti i cavi sono piuttosto morbidi non so se è silicone ma comunque morbidi e quindi molto agevoli da utilizzare in più viene fornita una termocoppia per misurare la temperatura come potete vedere l'ho già utilizzata per misurare temperature molto alte e funziona bene adesso andiamo a vedere un attimo il funzionamento del multimetro vedete a un piedistallo estraibile è rivestito in gomma addirittura qui c'è un gancio per appenderlo al muro dovesse servire e un altro gancio qui di gomma per poterlo appendere da qualche parte e qui due alvei per accogliere i puntali sia in questo modo in maniera proprio da poterlo trasportare oppure in questo modo dovesse servire per qualsiasi motivo di metterli con la punta verso l'alto andiamo un po a vedere a molte molte funzioni senza dubbio un selettore principale come i più attenti avranno già visto è un auto range non ha quindi la selezione del range manuale ma lo fa da solo è un 6.000 passi 6.000 conti questo significa che può misurare fino a 6.000 passi appunto prima di scattare al range superiore e perdere una cifra decimale poi andiamo a vedere mille volte in categoria 3 600 volt in categoria 4 quindi un ottimo isolamento i quattro fori per i puntali servono questo per la maggior parte delle funzioni volt hertz duty cycle live e gradi in più condensatori di iodi resistenze questo è negativo comune questo è per i mili ampere e questo per i 10 ampere può misurare fino a 10 ampere nel momento in cui lo andiamo ad accendere si illumineranno prima tutti i puntali e poi soltanto i due fori che ci servono a seconda vedete di quale per esempio se lo metto su ampere si accendono questi due se lo metto su mili ampere si accendono questi due ci indicherà dove inserire i puntali ed è estremamente comodo abbiamo nella prima impostazione hertz e volt in alternata o continua nella seconda impostazione e millivolt quindi con una precisione migliore in alternata e continua in questa soltanto gli hertz e la percentuale di tutti cycle in questa abbiamo di od e home e continuità qui abbiamo condensatori qui abbiamo la temperatura che abbiamo un micro ampere mili ampere e ampere in realtà non è un vero e proprio auto range qua come potete vedere dobbiamo selezionare noi anche perché dobbiamo cambiare il puntale per micro ampere e mili ampere oppure per i 10 ampere dobbiamo mettere l'altro nell'altro foro questa invece la funzione non conta volte e live cominciamo proprio da questa andiamo a ritroso e vediamo come funziona se noi abbiamo una fonte di tensione per esempio prendiamo questo carica batterie e ci mettiamo anche una batteria in carica e andiamo vicino con la ncv eccolo qua vedete che ci indica h e si illumina di rosso e suona con un cicalino a frequenza elevata perché qui davanti rileva probabilmente un'alta tensione che saranno i 230 volt se io mi sposto in un'altra zona mi indica low l luce verde e cicalino a frequenza meno elevata è abbastanza indicativo in realtà qui per esempio dove ho la batteria è un 12 volt quindi mi dovrebbe indicare l non h però sappiamo che questi multimetri non hanno mai una precisione elevatissima con l'ncv è più diciamo una traccia la funzione live invece allontaniamo il carica batterie la funzione live invece ecco ho preparato questo che è il mio banco di prova per farvi vedere appunto il funzionamento dei multimetri attenzione perché qui arriva corrente a 230 volt quindi non fatelo a casa se non siete ben consapevole di quello che fate anzi riproviamo la funzione live riproviamo le ncv anche qui vedete che qui eccolo qua ci indica h si allontano un po mi dice l ma si avvicina mi dice h infatti sono 230 volt togliamo la funzione ncv e mettiamo la funzione live come si fa premendo funk e lui va su live che cos'è live un cerca fase praticamente notare che eccolo qua lui mi dirà dove inserire il puntale io lo vado ad inserire dove mi dice di inserirlo e avremo un cerca fase vediamo un po eccolo qua in questo caso l'avevo già preparato in maniera che la fase marrone fosse giusta fosse col colore giusto e infatti a colora lui mi dice live sul marrone quindi è la fase il 230 funziona essendo in corrente alternata a mono fase funziona anche invertendo le fasi vedete che qui non mi indica nulla e quindi indica fase se fosse un trifase chiaramente il discorso cambia in quel caso avremo tre fasi e un neutro e lui mi dirà live su tutte e tre le fasi bene per misurare gli ampere mi sono dotato di una lampadina in questo caso una lampadina led ma cambia poco e una serie di cavetti e una batteria per auto andiamo quindi a misurare la corrente per misurare la corrente dovremmo mettere il multimetro in serie rispetto al circuito questo cosa vuol dire che normalmente noi andremo ad alimentare la nostra lampadina semplicemente così collegando positivo e negativo ai poli positivo e negativo della batteria e poi andrei a toccare con questi due contatti vedete eccolo qua il positivo e negativo della lampadina ok io dovrò far passare la corrente attraverso il multimetro quindi dovrà prendere il positivo del multimetro e collegarlo al positivo della batteria dopodiché il negativo del multimetro dovrà andare a un contatto della lampadina e dall'altro contatto della lampadina dovrò far partire il negativo che torna la batteria chiaramente non ho abbastanza mani per farlo ma ho i coccodrilli cerando e coccodrilli ed un rango tango ed eccoli qua prendiamo il rosso e lo colleghiamo qui dopodiché attenzione qua a non far toccare i contatti tra di loro perché potrebbero generarsi situazioni spiacevoli dopodiché prendo il primo coccodrillo e lo metto qui sul rosso del multimetro il nero del multimetro lo collego al secondo coccodrillo vado a toccare infine il contatto della lampadina e vediamo che siamo attorno al 157 158 ampere basta moltiplicare per 12 e sapremo quanti watt assorbe questa lampadina così invece vediamo l'abbagliante è leggermente più potente 1,65 ampere siamo sempre comunque su veramente su potenze molto basse 1,65 è pochissimo e se consideriamo quanta luce fanno queste lampadine led questa in particolare è una shaz led di melograno 51 non l'ho ancora recensita perché purtroppo da quando c'è il coprifuoco alle 22 non sono più riuscito ad andare a fare le mie prove delle lampadine led però l'ho provata sull'auto chiaramente l'ho tenuta montata sull'auto per un po sulla grande punto e funziona veramente bene in questo caso l'h4 mentre ho anche la versione h7 che ho provato sulla tipo anche questa funziona molto bene la tipo ai lenticolari e questa non è specifica per lenticolari però ha un ottimo potenza non esagerata perché siamo in presenza appunto di lampadine che consumano veramente poco e hanno un dissipatore passivo ma questo può anche essere un vantaggio soprattutto sulla grande punto perché vedete è un h4 praticamente plug and play occupa lo stesso spazio di una lampadina tradizionale va bene la recensione sulle lampadine di melograno 51 occuperà un altro video ho fatto una piccola parentesi quindi abbiamo visto come funziona con gli ampere chiaramente mili ampere stessa identica cosa si cambia qui l'impostazione non vado adesso a fare la stessa prova perché rischierei di bruciare il fusibile del multimetro in quanto i mili ampere ovviamente servono per carichi molto più bassi idem per i micro ampere anche qui non ho qualcosa da farvi vedere con i micro ampere andiamo invece dalla parte opposta della scala e andiamo con i volt e qui è tutto molto più semplice stacchiamo dalla batteria tutto l'accrocco e andiamo direttamente con i puntali è molto ma molto semplice tipicamente vedere lo stato di carica della nostra batteria dell'auto controlliamo che qui si è selezionato dc corrente continua perché col tasto funk possiamo mettere anche ac corrente alternata poi lo vedremo sempre col banchetto di prova di prima dc corrente continua attenzione però che lui ci dirà di cambiare l'impostazione ed è molto importante una volta ho provato a fare questa cosa che stavo per fare con una batteria al litio non so stava per succedere qualcosa di brutto attenzione che questa oscillazione è sempre normale in tutti i molti metri digitali se vado vedete a toccare due puntali sparisce l'oscillazione comunque è ininfluente ai fini della misura ecco qua abbiamo un 12,62 quindi sappiamo che questa batteria ha una carica media non è ultra carica ma neanche completamente scarica come potete vedere nella parte bassa del quadrante mi compare anche un indicazione analogica diciamo una barra che mi dà più o meno un'indicazione così ad occhio ecco andiamo di nuovo a collegare invece il banco di prova di prima spostiamo la selezione in alternata e andiamo a posizionare i nostri puntali su neutro e fase e lui ci dirà ci mette un pochino perché essendo un auto range intanto si illumina di rosso il display perché ci indica tensione elevata ci indica 236 volt e 50 hertz se io lo vado a mettere solo in hertz e vado sempre a toccare con i puntali lui mi dirà 50 hertz perfetti vedete ovviamente in questo caso non metto millivolt a parte che anche se metto millivolt non succede niente mi dirà ol se io vado a mettere millivolt lui andrà in ol assolutamente attenzione che se torniamo in volt ac in questo caso lui mi dirà 236 volt questa è la misura efficace siamo in presenza di un true rms però siamo anche in presenza di un'onda sinusoidale quando abbiamo un'onda sinusoidale la tensione efficace e la tensione media corrispondono se invece fossimo in presenza di una tensione non sinusoidale quindi un'onda quadra triangolare ok questo multimetro ci dirà la tensione efficace e confrontandolo con un altro multimetro che non misuri true rms vedremo la differenza l'altro multimetro in caso di onda non sinusoidale ci darà delle misure falsate andiamo avanti classica misura home di odi sempre con il tasto funk andremo a modificare in questo caso vedete cicalino home eccolo qua tocco i due puntali tra di loro e sono il cicalino e si accende la luce ci dice che c'è continuità semplicemente andiamo a riprendere il nostro cavetto di prima vado a mettere un coccodrillo sul rosso un coccodrillo sul nero eccolo qua si dice che questo cavo conduce perfettamente ovviamente questo ci serve per trovare circuiti interrotti e quant'altro se invece andiamo a posizionarlo su di odi vediamo dato che questa è una lampadina led proviamo a vedere che cosa si dice con la lampadina led che anche un diodo led light emitting di di od penso si pronunci così eccolo qua qua ci dice che abbiamo una tensione di attivazione di 1,44 1,43 volt se io inverto la polarità abbiamo questa lampadina funziona entrambi i modi bene adesso ne devo cercare una invece che non funzioni entrambi i modi altrimenti non posso farvelo vedere ecco penso che quest'altra lampadina non abbia la doppia polarità e che funzioni soltanto in un modo vediamo in questo modo lui ci dice 0 45 volt di soglia d'attivazione vediamo nell'altro senso cosa ci dice ok o l vedete che questa lampadina invece a un led classico che funziona in un verso solo ma infatti c'è anche scritto più e meno infatti se io metto il meno sul più non succede nulla nell'altro senso invece funziona con appunto una corrente di soglia bassissima di 0,45 volt l'altra aveva una corrente di soglia comunque molto bassa scusate tensione volevo dire di soglia comunque molto bassa di 1,4 1,5 volt considerate che queste vanno a 12 volte bene e abbiamo visto anche dio di corrente e continuità condensatori condensatori facciamo molto presto qui abbiamo un 100 micro farad andiamo a mettere i puntali sui due terminali del condensatore lui farà una carica e scarica del condensatore fino a che arriverà a dirmi ci mette un po 93,45 92 39 92 micro farad sui 100 dichiarati anche qui c'è una tolleranza chiaramente vediamo se dichiarata no non dice la tolleranza del componente comunque c'è sempre una tolleranza a non vi ho fatto vedere gli home ma va bene gli home ci dicono per esempio lo posso fare che col mio corpo vedete con gli home se io tocco direttamente con le mani anche il mio corpo una resistenza infatti mi dice che sono attorno ai 5 4,5 5 mega home poi a seconda di dove tocco cambia un po perché chiaramente io non sono un conduttore sarei un isolante però se tocco in altri punti mi dice 2 mega home dipende anche dalle mani proprio dall'umidità che ho sulle mani temperatura già lui ci sta dicendo che ci sono 22 gradi o 72 gradi fare night questo in questo momento lo sta misurando con la sua sonda integrata se invece andiamo a staccare i puntali e andiamo collegare la sonda esterna la termocoppia chiaramente lui ci dirà sempre dove collegarlo ecco che è passato a misurare con la termocoppia identico prima perché la termocoppia era nello stesso ambiente in cui chiaramente è contenuto il multimetro se io ci vado a mettere le mani però cresce velocemente siamo già a 35 gradi cioè temperature del mio corpo 36 vedete è molto sensibile questo l'utilizzo l'ho utilizzato per esempio per misurare i gradi del saldatore i gradi della pistola termica ed è molto preciso devo dire ampere eccetera ve li ho già fatti vedere direi che abbiamo finito qui c'è la sonda della ncv rimane ancora una cosa da farvi vedere retroilluminazione del display che a parte che lui cambia già quando avete visto prima abbiamo un voltaggio elevato voltaggio non si dice una tensione elevata e poi c'è anche appunto questa la retroilluminazione per lavorare in ambienti poco illuminati se teniamo schiacciato si illumina invece la torcia per illuminare l'ambiente di lavoro la zona di lavoro si facciamo di nuovo per qualche secondo si spegne hold e max min servono per tenere in memoria la misura rifacciamo per esempio la prova con la resistenza del corpo umano ora vedete che la mia resistenza oscilla a seconda di come metto le mani quello che vi dicevo prima quindi se vado a schiacciare max e min lui mi va a tenere in memoria i dati di max e mini in questo caso o l è andato addirittura fuori scala e min 3,8 mega home tengo schiacciato un po e lui ritorna alla modalità continua hold invece semplicemente mi va a fissare il valore presente sullo schermo in quel momento molto utili tutti e due la funzione molto semplice ultima cosa se ce lo dimentichiamo acceso nel giro di un po di minuti dovrebbe essere un quarto d'ora eccolo qua questo è l'indice dell'auto spegnimento iniziale mettere un suono dopo di che si spegnerà se noi andremo ad agire sul selettore o a fare qualche misura annulleremo l'auto spegnimento la protezione garantita da due fusibili vedete un fusibile da 600 mili ampere e da un fusibile da 10 ampere l'alimentazione è garantita da due batterie da 1,5 volt a a quindi le stilo si svita questa vite e si apre lo sportello e dentro ci sono le nostre due batterie poi ci sono anche due fusibili ma per cambiare i fusibili bisogna togliere il muso di protezione e aprire il multimetro perché non sono accessibili dall'esterno purtroppo direi molto bene rimane ancora una cosa da dire su questo multimetro e sono le classi di accuratezza andiamo a leggerle insieme per la tensione abbiamo una classe di accuratezza di più o meno 0,5 per cento più tre punti cosa significa significa che avremo una possibile oscillazione oltre allo 0,5 per cento in più o in meno anche di tre punti di tre cifre dell'ultima cifra quindi se avremo per esempio 100 volt virgola 00 misurato quindi da 100,5 a 99,5 ma poi avremo anche quel più tre quindi se l'ultima cifra per esempio è 100,50 avremo da 47 a 53 non so se mi spiego quindi l'oscillazione dello 0,5 per cento e poi più o meno tre cifre dell'ultima cifra decimale su tensione alternata accuratezza leggermente minore 0,8 per cento più o meno cinque punti su corrente continua 1,2 per cento più o meno tre punti su corrente alternata 1,5 per cento più o meno tre punti sulla resistenza più o meno uno per cento più o meno tre punti fino a 600 kg e poi 1,5 per cento sempre più o meno tre punti da 6 e 60 mega ohm per la capacità abbiamo più o meno 4 per cento o più o meno 5 per cento a seconda della capacità sulla frequenza più o meno 1 per cento sulla temperatura abbiamo più o meno l'uno per cento fino a 400 gradi e più o meno il 2 per cento da 400 mille gradi perché misuriamo fino a mille gradi bene in definitiva siamo di fronte a uno strumento di buona accuratezza perché i valori che ho letto in realtà sono comuni alla maggior parte dei multimetri di classe piuttosto elevata quindi una buona accuratezza una buona anche risoluzione perché siamo a 6.000 passi è vero che esistono dei multimetri a 10.000 passi ma già 6.000 passi è un'ottima risoluzione e anche direi una bella comodità d'uso con la maggior parte dei range automatici tranne forse appunto questi qua della corrente che vanno un attimo selezionati ma ma comunque siamo di fronte ad un multimetro che per la maggior parte degli utilizzatori è automatico per qualcuno ma quel qualcuno sicuramente è un utente consapevole allora andrà selezionato il range giusto ma penso che quell'utente che utilizzerà quel tipo di misurazione cioè la corrente in micro ampere sappia quello che fa e questa rappresenterà per lui una limitazione difetti difetti pochi in realtà a quasi tutto quello che serve e lo fa bene non mi piace il discorso che non abbia una custodia preferirei avere il multimetro dentro la sua custodia la protegge bene esiste a richiesta a costa tipo metà del multimetro e non mi piace questa cosa gradirei che i signori di keyways mettessero una custodia compresa e non doverla comprare a parte altro difetto se vogliamo è quello di avere i fusibili non accessibili dall'esterno ho visto altri multimetri che aprendo vanno batterie troviamo i fusibili lì bella vista da poter cambiare qui no e questo mi dispiace d'altronde quasi nessuno dei multimetri che ho io offre i fusibili a vista ma dato che caiwezza è una marca che lavora molto bene mi aspetterei anche questo da loro magari per una prossima versione per una prossima miglioria io spero che il video vi sia piaciuto mettete mi piace al video mi raccomando iscrivetevi al canale naturalmente e attivate la campanella per rimanere ragionate sulle novità spero di ottenere un codice sconto per quando pubblicherò il video e se lo otterrò voi lo troverete nella descrizione del video e nel primo commento utilizzate quindi il link che vi lascerò per l'acquisto di questo apparecchio molto buono e del prezzo anche abbastanza contenuto e anche tutti gli altri link che lascio per amazon nella descrizione del video quindi un link generico con il quale entrate non spendete nulla di più fate i vostri acquisti aiutate il canale e poi un link alla mia vetrina di prodotti tra i quali potete scegliere sempre senza spendere nulla di più per aiutare il canale e ci vediamo la prossima volta ciao